Allora Francesca, sorge spontanea domanda da qui iniziamo. Come è cambiata effettivamente l'alimentazione degli italiani e che cosa comprano oggi le famiglie italiane? Allora, com'è cambiata? Sta cambiando paradossalmente in due modi completamente diversi. Si cominciano a leggere le etichette, si comincia a capire come si produce un cibo e da dove vengono le cose. Dall'altra invece si sono perse drasticamente delle abitudini sane anche che ci portavano ad avere anche poi delle conoscenze dirette anche sulla ricetta stessa. E quindi questi due mondi che si stanno staccando fanno sì che poi l'acquisto sia un acquisto quasi senza senso, cioè abbiamo persone un po' contraddittorio. Perché il consumatore in questo momento qui è un consumatore che consuma di meno nel cibo, investe di più e consuma di più in altri beni e pensa che spendere nella qualità per esempio degli alimenti non sia poi così importante. Quindi è un momento pericoloso.